Di uno dei Magnifici 4 della letteratura americana degli ultimi 50 anni, cioè Corma McCarthy, abbiamo parlato non molto tempo fa. Oggi parliamo di un altro di questi Magnifici 4, cioè Philip Roth, scrittore nato nel 1933 come McCarthy, peraltro, e morto pochi anni fa. È noto soprattutto per due libri in particolare, che sono Lamento di Pornoi, scritto nella prima fase della sua carriera, che è un libro esuberante, divertente, irriverente, praticamente su tutti i fronti, e che suscitò parecchio scandalo quando c'è il momento della sua uscita. E il secondo, che è pastorale americana, che nel 1997 è valso a Roth il premio Pulitzer, e questo invece va ricondotto alla seconda fase della carriera di Philip Roth, schematizzando molto quella più cupa, a cui peraltro è stato dedicato un saggio di Elen Seyfer, che è questo qua, che è Mocking the Age, sul tardo Philip Roth. È un saggio questo qui, in cui non è incluso il libro di cui parleremo adesso, per il semplice fatto che è uscito nel 2006, e questo stesso studio è nel 2006, quindi Elen Seyfer non ha fatto in tempo a includerlo, diciamo. Però fornisce uno sfondo, quindi si occupa di Operazione Shiloh, del teatro di Sabbat, di tutti i testi che afferiscono a una fase, peraltro molto vitale, della produzione di Roth, in cui però tutta una serie di elementi, per esempio l'umorismo che contraddistingue l'amento di pornoi, piano piano vanno eclissandosi, diciamo. Philip Roth si distingue, giusto così, in modo molto sbrigativo, dare con un paio di pennellate alcune caratteristiche della sua prosa, del suo valore, si distingue dagli altri tre, principalmente, per lo meno viene da dire a me, per la fluidità della sua scrittura. Cioè ogni volta che il lettore si misura con un libro di Roth, che sia uno degli ultimi o dei primi, ha costantemente, dalla prima all'ultima pagina, l'impressione di una grandissima naturalezza, relativa al modo con cui Roth domina la lingua, i giri di frasi, i raccordi tra i periodi, ovviamente è una naturalezza ingannevole, nel senso che ha un effetto ottenuto, come sempre, come ogni grande scrittore, sull'onda di ore e ore e ore al giorno di scrittura. Però effettivamente questa naturalezza, questa spontaneità, questo effetto relativo a una prosa che sembra uscirgli dalle mani come la cosa più naturale del mondo, è qualche cosa che negli altri tre scrittori che ho nominato prima, cioè gli altri tre, gli altri magnifici tre, che oltre a McCarty sono, o meglio che ho nominato l'altra volta, forse parlando di McCarty, che sono, oltre a McCarty, Thomas Pynchon e Don De Lillo, effettivamente non c'è. Quindi questo per quanto riguarda i pregi, diciamo, uno dei pregi di questa grande voce del panorama letterario americano, che era quella di Philip Roth. È anche vero però che rispetto agli altri magnifici tre, di nuovo, Roth è in un certo senso più monolitico, perché di fatto Philip Roth nel corso della sua lunga carriera non ha mai fatto altro che, ovviamente pure in grande stile e massimi livelli, ma che articolare, riarticolare due, viene da dire esclusivamente due, elementi cardine, che poi sono le sue ossessioni, cioè uno la sessualità, ha il sesso in tutte le sue declinazioni possibili ed effettuali e secondo l'angoscia di morte, quindi la finitezza umana in tutte le sue manifestazioni. Non c'è la scienza, per esempio, nei libri di Philip Roth, che viceversa ha un ruolo molto importante sia in Pynchon che in De Lillo, non c'è, cioè manca totalmente la tensione verso l'assoluto, comunque il bisogno dell'assoluto, che non significa necessariamente ricerca di Dio, ma l'impulso verso qualcosa, verso la trascendenza, il desiderio, il richiamo dell'assoluto, che invece lo accennavamo parlando di Corma McCarty, è ben presente, per l'appunto in Corma McCarty. Quindi potremmo dire, in un certo senso, il registro di Roth, cioè laddove la sua lingua è più effervescente, più vivace anche, negli altri tre le cuciture del testo si intravedono come un abito di cui intravedi i segni, le giunture operate dal sarto, diciamo. Però ecco, questa sua grande abilità in qualche modo è controbilanciata appunto da una minore vastità. Gli altri tre sono indubbiamente più vasti, perlomeno questa è la mia opinione. Questi due elementi, queste ossessioni di Roth, cioè il sesso, l'erotismo e dall'altra parte la morte, quindi la finitezza, si saldano in una sorta di canto funebre in uno degli scritti minori, che è Everyman, in Audi, come praticamente tutti i libri di Philip Roth, e uso l'aggettivo funebre in senso letterale, perché il libro in questione inizia e finisce in un cimitero, o meglio, la penultima scena, cioè della seconda, la seconda delle due scene ambientate nel cimitero è la penultima, non l'ultima, nel senso proprio fisicamente dell'ultima pagina. Però l'ultima scena di Everyman in realtà, quella in cui il protagonista muore, di cui ci viene descritta la morte, è un po' sospesa nel vuoto, quindi in realtà il cimitero funge proprio da sigillo e quindi da cornice, cioè dell'apertura e chiusura, che è una scelta decisamente eloquente. E del resto, fin dal titolo Everyman, è palese il proposito di Roth di cercare di far sì che, confrontandosi con la condizione umana, nella sua, in quello che, bene o male, è il suo orizzonte trascendentale, la morte, siamo vivi proprio perché dobbiamo morire in un certo senso, l'obiettivo di Roth sia quello di far sì che ogni lettore possa rivedersi e riconoscersi nel protagonista di questo libro che, insomma, va detto, è un uomo comune, anonimo, insomma, e quindi nelle premesse vicino a noi, o comunque più vicino di un Napoleone o di un Gesù di Nazareth o di un Gandhi, e di farlo, cioè di misurarsi con la condizione umana vista dalla prospettiva della mortalità, raccontandocela come la storia di un corpo, che è un'espressione che compare per bocca del personaggio principale in questo libro. Cioè ci viene raccontata la parabola di quest'uomo vista su basi fisiologiche, quindi la vitalità dell'infanzia, adolescenza, giovinezza, poi su su fino a quella sorta di terra di mezzo, che è la maturità, poi i primi acciacchi, l'inesorabile decadimento e infine la morte. E in effetti, quando lo lessi la prima volta, avevo circa 18 anni, e come direbbe Primo Levi, molto poco senno, ne rimasi folgorato, cioè mi colpì molto questo libro di Philip Roth, e dato che era il primo che leggevo di Roth, poi, come dire, mi venne il desiderio, poi a secondato, di leggere, se non tutti gli altri, perché me ne manca qualcuno di Roth, mentre di McCarty ho letto proprio tutto, ma proprio tutto, me ne manca qualcuno, però insomma gran parte degli altri suoi, insomma, quindi a ritroso in realtà, perché prima ho letto quelli della seconda affare, poi sono passato a quelli della prima, Villamento di pornoi, quando lei era buona, e tutte queste cose qua. Ecco, leggendolo invece oggi, che ho qualche anno di più, e almeno spero anche un po' più di senno, sono rimasto molto meno colpito, e non mi viene da ricondurre questa mia reazione a distanza di anni a quel fenomeno, insomma, che ognuno di noi sperimenta, tale per cui ci si stufa, ci si stanca di tutto, prima o poi, no? Ivi comprese le proprie giovanili infatuazioni letterari. No, cioè, all'altezza di questo libro, perlomeno, mi sembra di poter dire che si potrebbe, c'è la critica che si potrebbe girare a Philip Roth, nel caso fosse ancora tra noi, dovrebbe essere strutturale, perché il protagonista di Everyman non è altro che l'ennesimo personaggio rottiano, quindi il personaggio alla Philip Roth, uno dei suoi mille alter ego, che ha vissuto dall'inizio alla fine esclusivamente in funzione dei sensi, quindi dei sensi e dei piaceri supposti o reali, che dai sensi derivano, con annesso e connesso tutto quello che si può raccattare, no? misero o grandioso che sia o che venga ritenuto. Ed effettivamente, insomma, su queste, poggiando su queste basi, su queste premesse, insomma, è chiaro che se si investe, se uno investe tutta la propria vita sui sensi, sul corpo, no? Che sia il sesso o quant'altro, insomma, già invecchiare, morire è una tragedia, così diventa una sorta di doppia tragedia, no? Perché se tu hai investito tutto lì, il corpo prima o poi ti molla, e quindi sei fregato, perdi letteralmente tutto. E quindi, come dire, l'impressione è ovviamente tutto relativo, no? Perché si parla ovviamente di un grandissimo scrittore, uno dei maggiori del Novecento, ma quindi se di piccola delusione o rivalutazione si può parlare, è chiaro che questo è un discorso che vale rispetto agli altri libri di Filippo Rott, no? Quelli migliori, nel senso che laddove Evrimen convince poco, comunque convince meno di altre prove migliori di Rott, non è solo nella portata o nel fatto che si tratti di un testo anche breve, no? perché sono 120 pagine, un romanzo breve, corto, ma proprio nel fatto che sembra fallire nel suo obiettivo di fondo, cioè quello di misurarsi con la condizione umana, il cui presupposto è la mortalità, no? Tutti moriamo prima o poi, a partire da una reazione che in realtà è solo la sua, cioè quella di Filippo Rott, nel senso che la voce del personaggio protagonista a cui Rott mette in bocca delle riflessioni che evidentemente sono sue, non è universale come invece è la condizione, il dato di fondo da cui prende le mosse, per cui laddove il protagonista per esempio ci informa a un certo punto, cioè ci dice a un certo punto, no? che la vita gli è stata donata per caso, come a suo dire è stata donata per caso a qualsiasi altro uomo su questa terra, oppure che la prospettiva della fine non era nient'altro che l'attesa del nulla, ecco, questa non è la condizione umana, queste sono la vita e la morte, secondo Filippo Rott, che era legato a doppio filo a una concezione, cioè un'idea di finitezza che era molto ebraica, no? E sulla quale c'è da star certi che, tanto per fare due esempi, di un monaco buddista o un'anacoreta cristiano, ma non solo loro, difficilmente convergerebbero, su cui si troverebbero d'accordo, proprio nel senso del modo di sentire, no? C'è questa cupezza, che peraltro è riconducibile a un certo stadio della vita di Filippo Rott, che qui era già piuttosto vecchio, ma avanti negli anni, e appunto riguarda Filippo Rott. Forse i passi in cui è possibile che che ci si riconosca, riguardano proprio lo stadio dell'esistenza, no? Da cui Rott si pone, quindi il suo osservatorio in senso proprio anagrafico, no? E in questo senso c'è una chiusa, peraltro magistrale, di uno dei paragrafi in cui lui ci dice, dopo che sta osservando, sta vedendo intorno a sé morire praticamente tutti, gli ex colleghi di lavoro, la sua ex moglie che ha un ictus e così via, e c'è questa chiusa molto d'impatto, in cui noi leggiamo la vecchiaia non è una battaglia, la vecchiaia è un massacro. Ecco, su questo è molto probabile che chi sia arrivato, insomma non è il mio caso, ma c'è da supporre che un coetaneo, Rott aveva 73 anni, quando scrisse questo libro, diciamo un over 70 più o meno, che lega queste cose, ci si possa riconoscere, ma sulle altre, appunto sulla reazione, per quanto riguarda la vecchiaia, cioè ciò che poi consegue, no? Di fronte alla vecchiaia e alla morta, questo sembra riguardare solo Philip Rott, che poi è il motivo per cui, Everyman, per quanto, insomma, appunto libro all'insegna di una qualità di scrittura che non viene mai meno, perché Rott non ha mai scritto dei brutti libri, tanto meno dei libri sciatti, però ecco, al netto di un'abilità di scrittura che è sempre celsa, è il motivo per cui Everyman, in fin dei conti, sembra poter essere definito nient'altro che come un manieristico, e per quanto raffinato esercizio di stile.